Il tour della campagna chiusura filiali No Grazie è giunto alla quinta tappa in Puglia e Basilicata e ha toccato i comuni di Ruvo di Puglia, appunto in Puglia e Miglionico in provincia di Matera. Purtroppo anche la Puglia è interessata da questo fenomeno della desertificazione bancaria abbiamo circa il 17% degli sportelli chiusi negli ultimi 4 anni ci sono 113.000 pugliesi che vivono in comuni nei quali non c'è neanche uno sportello bancario ci sono 7.800 aziende dove non esiste uno sportello bancario nel quale operano e ci sono 300.000 abitanti che vivono in comuni dove vi è un solo sportello bancario. Purtroppo le banche devono fare i conti anche con questo aspetto sociale che rispecchia la legalità, dà forza all'articolo 47 della Costituzione perché la tutela del risparmio è appunto garantito dalla nostra Costituzione ed è importante che non facciano sempre le aziende bancarie soltanto profitti è necessario che guardino anche all'aspetto sociale la Wilka è con le persone e fra le persone. Grazie a tutti Grazie a tutti